Musica Lorenzo è stata un'estate molto particolare per te alla fin fine si è aperta questa porta a Ascoli benvenuto, com'è nata questa trattativa? Grazie innanzitutto e niente, è nata che insomma io ero a casa perché mi stavo allenando solo perché insomma per la vicenda dell'Avellino e niente, conoscendo insomma ci siamo sentiti col direttore giusto un po' per parlare per sentire un po' e c'è stato l'interesse fin da subito da entrambe le parti poi insomma dovevamo aspettare un po' perché ovviamente qua ad Ascoli la squadra erano in tanti ragazzi e quindi c'erano a sistemare un po' di cose e niente, io ho voluto aspettare perché anche avendo altre soluzioni però pensavo e penso lo stesso che Ascoli sia una prima scelta quindi prima di scegliere altre strade visto che potevo comunque aspettare ho scelto di aspettare e penso di aver fatto insomma la scelta giusta quando abbiamo sentito il tuo ex nuovo compagno di squadra Aldemagni si notava che c'era molta delusione per come erano andate le cose ad Avellino da parte 2 c'è qualche strascico psicologico negativo nel senso avete lottato tanto per ottenere la salvezza poi tutto è sfumato sì, abbiamo lottato tanto per ottenere non una ma due salvezze anche l'anno prima abbiamo fatto secondo me un miracolo e niente, c'è delusione perché comunque per come sono venute le cose per quello che ci avevano detto quello che ci avevano rassicurato e tutto insomma ci siamo sentiti un po' presi in giro penso che non lo meritavamo noi ragazzi anche perché ci siamo allenati penso per due o tre settimane sapendo dell'esclusione con grande professionismo, professionalità e facendo anche l'amichevole con la Roma già da esclusi quindi penso che non ci meritavamo questo trattamento diciamo almeno un minimo di serietà e di verità più che altro e niente, però comunque è finita così adesso c'è solo da guardare avanti per il futuro e per l'Ascoli per quanto riguarda me e Matteo fisicamente stai bene? perché comunque ti sei allenato con l'Avellino nella prima parte di stagione poi adesso eri in Toscana hai continuato a lavorare con un preparatore sì certo ho fatto tutto il ritiro con l'Avellino poi insomma erano 20 giorni che mi allenavo da solo col preparatore ovviamente non mi sono unito non sono voluto andare con nessuna squadra dilettantistica perché insomma per evitare situazioni spiacevoli quindi ovviamente mi mancano le partite mi mancano le amichevoli queste cose qua però io fisicamente penso di star bene tatticamente sulla fascia destra puoi occupare tutti i ruoli qui quinto in un centrocampo a cinque quarto in una difesa a quattro su quella fascia puoi fare quello che vuoi sì no insomma in questi anni ho ricoperto tanti ruoli sia per esigenze che per magari la duttilità che è una mia caratteristica io sono un terzino destro ovviamente con caratteristiche più offensive che difensive però ho giocato tanti anni con la linea a quattro e anche come quinto in centrocampo quindi insomma quelle due posizioni sono le mie all'occorrenza anche se sei un destro naturale puoi giocare anche a sinistra sì sì a sinistra soprattutto ad Avellino ho giocato spesso per esigenze più che altro perché comunque sono un destro naturale quindi se c'è bisogno volentieri mi sono sacrificato in passato e lo farò noi ricordiamo tante tue partite contro l'Ascoli una Vicenza fantastica dove fosti protagonista ai due assist l'anno scorso l'assist per Castaldo sono quelle le tue caratteristiche corsa cross ripetizione determinazione e anche un certo senso del gol sì no l'anno scorso sono riuscito a fare tre gol quindi è stata l'annata dove ho segnato di più diciamo però di solito sì gli assist spero che siano anche qua una caratteristica importante sì mi piace molto partecipare alla fase offensiva e mettere la palla a servizio dei nostri attaccanti e con l'Ascoli sono stato si vede particolarmente fortunato e mi ricordo a Vicenza ne ho fatti due e l'anno scorso a Castaldo sì ci diamo parlando delle prospettive dell'Ascoli a Perugia c'erano mille tifosi purtroppo è arrivata una sconfitta ora la sosta poi c'è la partita con Lecce un punto in due partite ma ora la classifica conta poco bisogna guardare avanti con fiducia sì è stata una squadra rinnovata da capo a piedi quindi c'è bisogno anche per il mister di cercare di capire e di sistemare la squadra in base anche alle esigenze quindi un po' di tempo ci vuole e ci vorrà adesso questa sosta per noi è favorevole perché comunque essendo una squadra nuova ci permette di conoscerci meglio e di lavorare a livello tattico e quindi insomma io penso che ci siano presupposti per far bene